Ehi ragazzi, come va? Io sono FeriNiki! E io sono Steph! E questo gioco è AstroNir! E i più attenti di voi avranno sicuramente notato che la nostra base è stata totalmente cambiata! Vuoi spiegare perché? Se vi ricordate la fine del scorso episodio vi abbiamo detto Ragazzi, come facciamo? Non possiamo più costruire nulla! Se tu non fai delle piattaforme extra, arrivi a un certo punto in cui non puoi più costruire nulla! È un piccolo errore del gioco che abbiamo dovuto risolvere riniziando! Quindi ci siamo dovuti rifare tutto da capo! Adesso voi in questo momento vi dovete immaginare la mia faccia quando sono andata a leggere la wiki di questo gioco E dice proprio le piattaforme non si possono eliminare quindi fate attenzione a fare dei connettori extra Altrimenti non potete più fare nulla! Quindi immaginate la mia disperazione Un piccolo regalo natalizio in ritardo! Però, 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 devo dire che alla fine sono stata anche contenta Perché la base è decisamente meglio Abbiamo fatto una cosa molto molto più figa E siamo pieni di cose, cose da far vedere Quindi dai possiamo iniziare Allora, praticamente prima di tutto come vedete la base ha una forma decisamente migliore Dopodiché abbiamo un po' di cose che non avevamo Abbiamo fatto due stoccaggio Uno qua, come vedete, siamo pieni di laterite pronti ad utilizzarla Un altro stoccaggio qui La cosa più bella, questa l'ho trovata io poco fa, ragazzi, guardate Aspetta, devo avere l'onore Vai Devo avere l'onore Potrò schivare le tue peste di sabbia Non morirò più con i massi in testa Fammi specificare Ovviamente non è un abitato Quindi non è una casa dove dormire È un posto auto L'ho trovato dentro quella navicella che si vede lì in fondo Sto facendo vedere col mouse Lì l'ho trovata sottoterra L'ho presa E credo che la potremo aggiungere al nostro veicolo Non appena lo costruiamo No, rimane lì È la mia casetta Va bene Non la puoi mettere nei veicoli Va bene Se no mi prende un'altra casetta Scegli tu Scegli tu Altra e ultima cosa che abbiamo fatto di diverso dalla scorsa partita Sono le turbine eoliche Che ci avete detto tutti che fanno molta più energia dei pannelli solari E quindi ne abbiamo messo una nel fonditore che utilizza un sacco di energia E l'altra l'abbiamo messa nella ricerca che utilizza un sacco di energia Ovviamente con le ricerche siamo un po' indietro rispetto alla scorsa partita E quindi Ferinichi ha portato un sacco di cose da fare alla ricerca Ferinichi la ricercatrice Hashtag Lo dico Neanche abbiamo iniziato già facendo partire gli hashtag Lo dico Ma sai che questo qua Ah ok l'avevo messo storto Ti sto dicendo che non si poteva fare la ricerca Ma come no Quello l'hai fatto tu però Tutti gli ampi Guarda come ricarica l'energia Eh vabbè ma è super Eh vabbè sì sì dai È una bomba È una bomba totalmente diversa Piattaforma di scambio vedi Una di quelle cose che avevamo E che non avevamo più Questa ce la ricostruiamo pure Perché sarà utilissima Eh assolutamente sì Poi la rifacciamo Continuiamo con le ricerche Vediamo se troviamo qualcosa che non avevamo E i consolini Nei commenti ci hanno detto anche a che cosa servono i filtri Dimmi Io non lo so Non lo so Per le piante velenose Se tu ti metti il filtro La pianta velenosa non ti fa danno In effetti era anche un po' logico Ovviamente dura solo un po' di tempo Quindi non è per sempre Quindi limitato Ok perfetto Quindi dobbiamo averne più di uno E in questo modo anche le piante Non saranno più un problema Oh che bello Quindi un sacco di I filtri li abbiamo pure ritrovati vero Sì li abbiamo già ritrovati Dobbiamo però craftarli E credo che si utilizzi composto Uh rame Ok Eh rame mica male Ce ne serviva Eh sì è abbastanza Faceva comodo Faceva comodo Dicevo I filtri chiede composto Sì confermo Quindi facile Esatto Troppo complicato da fare Poi ti faccio un regalo Dimmi Ti faccio un regalo che tu non avevi mai avuto Dimmi Dimmi Proprio per inaugurare questo inizio Dimmi Dimmi T'ho zitta Ok ho capito Mi sono confuso Niente regalo Cosa mi volevi fare almeno Un serbatoio E invece serviva il titanio Non l'alluminio Scusa Ti ho illusa Allora entro la fine dell'episodio Dovrei trovarmi un altro regalo Quindi impegnati Te lo dico Ma non è che puoi pretendere i regali te Altrimenti distruggo la base Ma che vuoi distruggere Ma che Ma smetti Ma guarda Ti lascio anche l'onore di creare Lo spazio veicolo Bello Questo non è un mo Ok cosa sarebbe Niente Energia Come funzioni Non ci avevo pensato Metti subito l'energia Allora Dammi un attimo Prendo due di composto Creiamo un'altra pala eolica Dato che ho capito Che sinceramente È una bomba La pala eolica Quindi facciamo soltanto quelle E turbina eolica Comunque Perché da noi si chiamano Pala eolica Nella realtà Capito Quindi certo che ti confondi Magari Abbiamo capito Magari 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 Dovrei avere altro alluminio Quindi bisogna un attimino Fondere Altro Alluminio Altra laterite E poi fare Ok Sì sì un attimo Ci stiamo Ci stiamo Mentre aspettiamo Quindi di poter fare Di poter sciogliere La laterite Per rendere l'alluminio Per creare un'altra pala eolica Per poter fare Il nostro veicolo Mentre aspettiamo Tutto questo Mi sa che ce ne andiamo In una caverna Ok vieni Sì perché Hai una caverna in mente C'è la mia caverna di fiducia La tua caverna di fiducia Hai una caverna di fiducia Esatto vieni E cosa ha di diverso Dalle altre caverne Che è la mia caverna di fiducia Ok vabbè Io ti seguo Ma ci sono molte piante Eh un pochettino Sì Ok Dipende da dove vai Capito Non è così bella allora No è molto bella È bella Sì sì Al tappeto rossa L'entrata Ah ecco sì È qui è qui Vieni come vedi Ho già messo anche dei paletti Però non in tutto Ok Occhio che ti fai male Tranquilla ormai Finiti i paletti Finiti Non ne avevo altri È perché ho fatto il percorso Fino a lontano lontano Ho esplorato benissimo Sì ma aspetta un attimino Che mi creo almeno un titer Certo certo Per favore Le cose le vogliamo fare Bene Qui io ho trovato un sacco di materiali Da ricerca Infatti li ho presi da tutti qui E ce ne sono tanti altri Ci sono anche un sacco di materiali Da prendere Ok Oltretutto Ho notato che la caverna È sempre ben fornita Di ossigeno e di energia Quindi Stai facendo una recensione Della caverna Certo te l'ho detto Certo te l'ho detto che la mia caverna Di fiducia Altrimenti non lo sarebbe E anche qui vedi questa discesina Per scendere il comodamento Ho fatta io Capito È brava È proprio bella Un architetto Guarda Ho organizzato tutto E mica mica Quale cose si fanno male Scusami Filtro 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 Questo qua Ma me lo devo posizionare Second te cosa dovrò fare Non è la più pallida idea Io me lo tengo Se lo metti nello zeno Penso funzioni così Vado Se muoio Sì Ricordami come ero è E recupera tutto quello che ho perso Ok Ti guardo da lontano Sono morto Preso tutto Sì tutto Ok così hai un serbatoio E una batteria Esatto Perché quelle due cose sono importantissime Guarda il mio schermo Allora Ma è facilissimo Ma il serbatoio batteria manca Ma è facilissimo Per fare il rover Ok Ci chiede 4 di composto Solo Sì Ma è bellissimo Per fare invece la navicella La navetta Ok Ci chiede 4 di composto Ma solo Quindi possiamo già partire Sì In allegria Ma è bellissimo Felicissimi Ma quindi cosa non hai trovato Delle mie cose No sono tornate indietro Siccome c'è buio Non vedo un accidenti Di quello che c'è nel tuo zaino Ho dovuto un po' improvvisare Capito Ma sia il serbatoio No sono riuscita a prendere tutto Ok L'ossigeno Sì I filtri Sì sì L'importante è batteria E serbatoio Ok Perché quelle due robe sono fondamentali Guarda cosa si sta creando Mamma mia Aspetta che torno a correre In corsetta Il nostro veicolo Torno in corsetta È finalmente pronto E gli manca l'energia E gli manca E giustamente E giustamente E gli manca l'energia Giustamente Mi sembra una cosa sensata Ah ci devo mettere l'abitacolo sopra La tua casetta Dovremmo averne due Perché altrimenti come facciamo ad andare assieme Sì 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 Aspetta che lo monto Quindi tac Ma che bellina Guardala Sono arrivata Adesso me la guardo No vabbè Aspetta che vediamo cosa ci chiede per costruire la seconda Se l'abbiamo sbloccata Bellissima Perché sinceramente aveva anche quel dubbio Allora Batteria E poi Generatore Un posto Chiede due di composto ancora E Oh vabbè È bello Bello insomma E dai no Il composto è semplice Sì però ne abbiamo usato sei Allora metto le tue cose qui Ok Perché non me ne faccio Di conseguenza abbiamo usato sei composto E quindi l'abbiamo anche finito Vai Ti do l'onore Vediamo Ok Ok Puoi muoverti Eh c'è c'è qua Ok avevo lo zeno Niente No Sono io Sei tu Sì È strano Ci siamo Boh Che bello Ma qui devo sempre l'ossigeno giusto Credo Non ne ho idea Sinceramente non ne ho idea Sinceramente dovrebbe essere Perché alla fine il figo del veicolo Beh la roba comoda Principalmente sta nel fatto Che Andiamo veloci Quindi possiamo allontanarci di più Ed esplorare parti del pianeta Che di solito non potevamo esplorare Bello magari troviamo qualcosa di particolare Perché questa zona poi non ci siamo mai andati Quindi magari c'è davvero qualcosa di particolare Tipo questa pianta Abbiamo un problema Marcia indietro veloce Di nuovo No ma non è posto Guarda No guarda l'energia Ce la sta finendo? Sì perché non abbiamo creato Una batteria Un generatore Un qualcosa E siamo andati Allora facciamo le cose con calma Lo so che ci siamo emozionati Per il primo veicolo Giustamente È come quando parti Poi ti rendi conto di essere senza benzina E rimani in mezzo alla strada Della stessa identica Dai ce la facciamo in base Tanto Abbiamo bisogno di organizzarci Prima di tutto Abbiamo un bisogno urgentissimo di composto Eravamo tanto felici che chiedesse composto Ma siamo totalmente a secco È ovvio E ci serve per fare un sacco di roba Io ho creato un mini pannello solare Per la nostra macchina In modo tale che si ricarichi un po' Appena si ricarichi un po' La riportiamo La riparcheggiamo lì Così la effettuerà una ricarica completa Poi vedremo se fare dei generatori O una cosa del genere Ho una domanda per te Mentre andiamo a prendere il composto Dimmi Ognuna per la sua strada Tu vedi lì? Sì vado di qua Ok io vado di qua Facciamo anche la navicella E andiamo in un altro pianeta O per questo episodio Continuiamo ad esplorare E ad evolverci E a fare tante cose belle Secondo me è meglio Continuare a evolversi un attimino Quindi episodio in cui Cerchiamo di sistemare la macchina Cerchiamo di dare anche a te Serbatoio e batteria Tutte queste cosettine Scopriamo un po' di creazioni in più E nel prossimo episodio si va Ok Ok va bene Anche perché secondo me è meglio Essere organizzati Per andare nei prossimi pianeti È sempre meglio essere ben organizzati Credo ci siano delle differenze Eh esatto Credo ci siano delle differenze Quindi alla fine è sempre meglio Avere tutto Piuttosto che arrivare lì e morire Perché non sappiamo cosa troviamo Ho trovato una scorta di composta assurda Allora io sono dovuta tornare indietro Perché mi servono dei paletti assolutamente Cabina No è lentissimo Fermo la muovere Non la muovere che penso Vai Non la muovere Che se no Aspetta che avevo tenuto Cioè Premuto shift e mi si è aperta l'interfaccia di Steam Ok Ci sono le rocce Houston abbiamo un problema Devi stare fermo Devi stare fermo Houston Posto Mentre tu spero che prendi composto No non ho trovato niente Ok benissimo Zero di zero Era la tua missione Guarda che posto strano che ho trovato Che posto è? Sembra una specie di canyon caverna E di conseguenza ho pensato che potrebbe essere buono da esplorare almeno un po' Quindi mi avventuro qui dentro In totale ne ho trovato tre Spero che almeno uno dei tre sia di ricerca e non oggetti Purtroppo penso che saranno tre oggetti Ma magari troviamo qualcosa per farti il serbatoio e batteria Eh sì Quindi potrebbe valerne comunque la pena Dai diciamo così Non credo esistano modi per strascinarne più di uno alla volta E quindi secondo me il modo più comodo è fare così Cioè lo chiappi Lo sposti un po' E poi sposti gli altri E poi risposti l'altro Eh sì Che non è proprio comodissimo come sistema Tu hai trovato composto? Ho trovato una di quelle risorse Praticamente c'è il presente è quella con le frecce Come quella che tu hai a fianco di energia Ok Di composto Quindi è strapiena Sto facendo Stai scherzando? Sto facendo avanti e indietro Alla fine sono riuscita a trovarlo Guarda sto felicissima Non pensavo che esistesse anche del composto Ma neanche io infatti l'ho vista e dicevo Ma di che accidenti è questa risorsa? Alla fine prendendolo ho scoperto che è composto Perché mi era capitato di trovarla di resina in effetti Anche a me è di resina Però di composto mai Uguale Infatti mi sto facendo i paletti fino a lì così Ma la prendo tutta in tranquillità Figata Bellissimo Uh è vero che è stranissimo quello di ricerca che hai portato tu Eh te l'ho detto che è strano Ma proprio molto Non è come i soliti Ti dico cosa c'è Ricerca Perfetto Dai qualcosa che non abbiamo mai trovato Vai Uoooo Lo sapevo Lo sapevo Che sono la migliore Su questo pianeta Ho fatto bene a portarla in base Tu mi hai detto che era inutile Che non serviva a niente Ma come l'ho visto di colore diverso Ma se neanche ti ho detto che cos'è Lo sapevo L'ho letto Camion Ok Quindi so benissimo che cos'è caro mio So benissimo che cos'è Ah ok Ok guarda Sono felice che l'abbiamo scoperto Ma allo stesso tempo Non sono felice di avere una ferrenichi che si vanta Quindi sono un po' combattuto Sull'essere felice o meno Però di sicuro voglio un camion Perché il camion Avrà sicuramente la possibilità di trasportare delle cose A questo punto Ok Per fare un viaggio lungo Secondo me ci serve E creare Qua Sia magari un bel pannello solare gigantesco Sia la batteria Ok Ma la batteria chiede due litio Vedi il litio è una cosa che comunque non abbiamo mai trovato Dai qualcosa di utile ancora Facci sognare Facci sognare Gru Una gru What? Addirittura una gru E mi sa che ti ho appena battuto No il camion Consolini Il camion non si batte Gru o camion Il camion non si batte Il camion non si batte È molto più figo il camion Hai notato? Anche perché la gru Muoviti Eh lo so Sto finendo di prendere E mettere i materiali Che se per sbaglio muoio Perdo tutto Vabbè Sei matto Il veicolo è lì Dove? Dritta Dritta Lontanissima Dai che ci arrivi Allora Fondo questi due di laterite Così mi da E altri due di alluminio Me ne basta uno Ma tanto Alluminio in più Non fa mai male Quindi Piazziamo l'alluminio qua E creiamo La piattaforma di scambio Con la piattaforma di scambio Teoricamente Potremmo mettere qualcosa di valore Che in questo momento Non ci serve troppo Scambiarlo per il litio È bello Per fare una batteria gigantesca Per il nostro veicolo Sì 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 Assolutamente sì Mi sembra giustissimo Mi sembra giustissimo Le sono piaciuto Le sono piaciuto Per una volta Per una volta C'è vento Quindi le nostre bellissime turbine oliche Sono in funzione Quindi ne approfitto Per fare altre ricerche E adesso controllo Nella stampante Cosa serve per fare la gru Allora Questa volta Mi ha dato idrazina Quindi non mi ha dato Nessuna ricerca Ma era idrazina Che per ora Mollo qui così Stiamo diventando Un po' caotici Con la base Eh lo so Bisogna rifare un po' di ordine Allora La stampante Dov'è La stampante Non mi ricordo Eccola La gru È tra i veicoli Sì Ebbè certo La gru È un veicolo Cioè Che stavi pensando Eh non è proprio un veicolo Se la piazzi Poi non è più considerato un veicolo Attenzione No la gru si muove One moment Ricerca Non so cos'è una gru Abb Alleluia Ci possiamo fare Il nostro habitat Ci possiamo Ammetti che hai perso No No Abitat Più gru Sur classa camion Ascolta ma l'habitat Serve per quando andiamo Nel nuovo pianeta Non ce lo possiamo fare anche qua Ce lo possiamo fare anche qua Ma secondo me è meglio Per il nuovo pianeta no Secondo me è in tutti e due Facciamo in tutti e due Dai Sì Così almeno vediamo subito Che cos'è Sono curioso Allora Eh un posto Gru Per la gru serve Quattro di rame Ok Per il camion Invece non mi dice nulla Non so bene Perché forse Perché c'è questo veicolo Montato Ah ma non è che la gru La monti su un veicolo Già fatto Eh sì avrebbe senso Certo Certo Camion e navetta Rover Il camion è un po' più grande Basta Allora Per fare il camion Ci serve quattro di alluminio Che sinceramente Non è troppo difficile Finalmente Ferinichi Non è più una barbona Guardate Guardate Che cosa le ho costruito Vieni All'abbraccio Nella tua nuova casetta Vieni Fammi finire Eccomi Eh vabbè Che bello Non sarò più una barbona Aspetta Aspetta Scendi Perché Te la piazziamo no No Mi piaceva lì Guarda qua Dove ce la mettiamo Vicino alla mia Ti piace Dai sì 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 Non sei più una barbona Finalmente Mi sto emozionando Sto per mettermi a piangere Mi sta scendendo la lacrimuccia Finalmente è una casetta anche lei Sì Allora Prova a fare un filtro E vediamo se capiamo come funziona Dopodiché ci fermiamo Allora filtro Craftiamolo Perché Ho capito che Ha la barra per indicare Per quanto ancora funzionerà Sì ok Fili ci siamo infatti Fili ci siamo Ok Come fare Cioè O ce l'abbiamo nell'inventario O non ce l'abbiamo Cioè non Non comprendo Sinceramente Non lo so Abbiamo tipo 10 di composto Abbiamo un po' di resina Ci servirà Latterite e malachite Che andremo a prendere Appunto Nel prossimo episodio Però stiamo messi davvero bene Scriveteci nei commenti Per i filtri Perché non abbiamo capito Ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuto Tantissimo questo video Grazie ancora Per chi supporta questa serie Perché è troppo bello Sto gioco È una figata pazzesca Hashtag finale Ricordiamola Pochi ma buoni Ma sempre ricordata La riutilizziamo sempre Ma sempre ricordata Certo perché il supporto Non va mai dimenticato Hai ragione E prossimo episodio Come abbiamo detto Navicella E vedremo finalmente Un nuovo pianeta E che cosa cambia Che bello Perché secondo me Ci saranno comunque Delle differenze Spero che ci giresci così Se ci lasciateci un like E se la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare il video di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao